Il peso delle parole ragazzi oggi è importante, è una questione, tu puoi avere tutta la cultura che vuoi, sei una ragazza splendida e questa sarà una grande occasione per capire di aver sbagliato e per ripartire, ma veramente hai fatto un grave errore, non hai pesato le parole. Ragazzi lo so avete ragione, basta Clizia, io direi, si capisce benissimo, scusa posso dirti un'ultima cosa? Io voglio andare fuori, ho sbagliato. Clizia mi lasci dire un'ultima cosa? Ti volevo dire questo almeno, che ho sbagliato veramente. Ecco e questa è la cosa più importante che tu possa dire. Io voglio andare fuori, ma guarda Clizia che purtroppo... Non lo so perché l'ho detto, miei amici hanno perso famiglie e tutto, non lo so perché ho detto questa cosa orribile, non lo so, non lo so veramente, non lo so perché ho detto ma sai può essere legata a tanti fattori, al fatto che viviate in una situazione così. Ho pensato a quella cretinata che dicevano a scuola così senza no sense, capito? Perché io ero sempre lì in prima linea a scrivere temi contro la mafia, sulla mafia che era un cancro, che ci stava ammazzando, la gente si ammazzava per strada tipo Far West e non lo so, non lo so perché l'ho fatto, io l'ho vissuta sulla mia pelle. Gente ha perso fratelli, non lo so, meglio di me non lo dovrebbe sapere nessuno.